Nicola Zingaretti si sarebbe dimesso da segretario del Partito Democratico, del PD, in particolare sarebbe stato lui stesso a informare i suoi fan o meglio i suoi sostenitori politici attraverso Facebook e Social Network per eccellenza nel compiere una scelta di questo tipo, nel compiere una scelta drastica ma a tempo stesso importante, forse per qualcuno anche saggia, di andare a dimettersi da segretario del Partito Democratico. Forse i motivi si troverebbero nel fatto che nel PD, in questo partito politico, da un po' di giorni si parlerebbe solo di primarie e di poltroni, di poltroni di primarie. Di conseguenza per questo motivo proprio Nicola Zingaretti avrebbe scelto di andarsi a dimettere da segretario del PD. Questo dunque sarebbe quanto. Io vi ringrazio in privis per la visione, in secundici per l'ascolto, ho voluto utilizzare in modo condizionale per non sbagliare, per non legare la privacy di qualcuno e per evitare di compiuto eventuali sbagliati. Ciao a tutti dal vostro Leandro, ossia il narratore italiano di YouTube Italia, forza i politici veri e in amma. Come un esempio può essere il buon Nicola Zingaretti. Ciao a tutti, questo video non vuole legare la sua privacy, ma so informare eventuali persone. Grazie e al prossimo video.